Senti Antonio, vogliamo vedere questa cosa che era successa? Vediamo, sì, questo è molto grave, anzi, fra l'altro voglio lanciare un appello proprio qui da Radio Radio, visto che ci sono sempre i cari radioscoltatori, sempre molto puntuali. Allora, vedete, qui c'è Fabio che giustamente ha evidenziato il giallo sotto. Però vediamo che cosa dice sopra per gli ascoltatori della radio. Stiamo vedendo adesso in tv e stiamo leggendo. La rettifica. C'è una cosa che è accaduta gravissima, che ormai gira anche in rete da tantissimi giorni, da diverse settimane. Noi ne parliamo oggi perché c'è stata una rettifica. È stato rettificato il regolamento qui in Italia, la traduzione del regolamento. Sulla gazzetta ufficiale europea c'è stata un'omissione per quanto riguarda la traduzione in italiano. Cioè noi abbiamo deliberato un testo, mentre nella traduzione ufficiale pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea, esiste anche la gazzetta ufficiale europea, è stata omessa una frase determinante. Anzi, è la chiave di volta. La chiave di tutto. Esatto. Perché? Questa è la rettifica ufficiale, perché poi hanno dovuto rettificare ufficialmente. Allora, cosa c'era scritto? Cosa c'era scritto? C'era scritto, nella traduzione che era stata fatta a farlocca, questo testo. Cioè è attualmente, scusa, fermatevi qui, è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari, e attualmente somministrate e consentito come bambini o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Punto. Punto. Pertanto, cioè, quindi dice, dice che, che cosa dice il testo secondo questa traduzione, che era stata fatta e distribuita al pubblico italiano? No, pubblicato ufficialmente. Ufficialmente sulla gazzetta ufficiale. Cioè, hanno voluto far credere al popolo italiano, bue, pollo che ci ha creduto, che l'Unione Europea intendesse non voler discriminare solo le persone che non potevano vaccinarsi, o i bambini che non potevano, o le persone che avevano malattie. E cosa hanno messo? E invece avevano messo di scrivere, andiamo sotto, compresa la parte gialla, ecco, avevano messo di dire l'ultimo capoverso, l'ultima frase, l'ultimo periodino, caro Antonio, che oltre a tutto quello che c'era scritto, il testo originale diceva, oppure hanno scelto di non essere vaccinati. È determinante. Minchia, è determinante. E quello è il testo che noi abbiamo votato, anzi l'abbiamo votato proprio perché c'era scritto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto, o hanno scelto. Quindi l'Unione Europea, con anche te, avevate deliberato questo testo perché l'obbligo di evitare la discriminazione era per tutte le persone che non fossero vaccinate, non solo quelle che non potevano, ma anche quelle che avevano scelto per propria convinzione, perché avevano stabilito... Peccavoli propri, va bene, siamo a Roma. Esatto, esatto. Beh, ma uno sceglie di non farlo perché magari si è informato e ritiene di non doverlo fare. Ma guardate che questo testo è stato votato quasi l'unanimità del Parlamento da parte di tutti i partiti perché lasciava lo spazio di libertà e di non discriminazione. Allora, mi è venuta, prima abbiamo preso il caffè insieme durante la pausa pubblicità e ho detto senti, voglio coinvolgere gli amici ascoltatori, mi è venuta una bella idea, visto che su un testo così importante, anzi determinante, c'è stata un'omissione così grave nella traduzione ed è, vi dico sinceramente, intollerabile. Io vorrei fare, e chiedo qui il parere a tutti quanti, un'altra bella interrogazione, sempre alla Commissione, per dire scusatemi, perché non andiamo a ricontrollare tutti i regolamenti, risoluzioni, tutto quello che è stato pubblicato e tradotto, non solo in italiano ma in altre lingue, se è conforme veramente, perché se qui fate uno sfondone di questo genere che stravolge completamente, ma chissà quanti altri sfondoni ci stanno e noi magari, siccome non ce ne siamo accorti, stiamo lì come pecoroni dietro a questa direttiva sbagliata. Per chi ci sta guardando in tv, ricordiamo che la parte in giallino, che la parte evidenziata in giallino, è determinante, è quella che era stata omessa, che nel testo originario tradotto non c'era, poi la gente si è incazzata, qualche parlamentare ha fatto sentire la propria voce, e allora è stata fatta la rettifica, ma porca puttana, la frase è determinante, c'è qui l'Unione Europea dice che non ci deve essere alcuna discriminazione fra chi decide, e oggi invece esiste. Ma è gravissimo, perché prima il testo dice nero e adesso invece dice bianco, cioè quell'omissione cambia tutto. Allora dentro di me dico, ma sarà successo altre volte, allora faccio un'interrogazione, anche qui mi devono rispondere e mi devono dire no, tutte le altre volte no, poi però dopo se becchiamo una volta e massacriamo. Cioè, come dire, ma se in un regolamento così importante tu fai questa omissione, ma permetti che io vada a rivedere negli ultimi vent'anni da che esiste la parte più stringente dell'Unione Europea, cioè dell'introduzione dell'euro, quindi un sacco di normative, di cose, di capestre, andiamo a vedere se tutti quanti sono conformi e anche lì non c'è stato, diciamo, il traduttore distratto. Allora un attimo solo, perché sono le 12.07, però una risposta è secca, ma la responsabilità della traduzione di chi è? Il traduttore è pagato dal Parlamento Europeo, dall'Unione Europea oppure Italiana. E mi risulta pure tanto, guarda, perché hanno diversi stipendi che infiniscono più. Cioè, comunque è dell'istituzione europea. Guardate, io non voglio, non so, però sicuramente è qualcosa di intollerabile, perché se noi ci dobbiamo fidare, visto che le lingue non è solo una, ma sono tante, ah, fra l'altro la cosa anche lì paradossale. Scritta in inglese, cioè tutti quanti parlano in inglese, però guarda che adesso è il paese che è uscito, però si parla in inglese, no? Questa pure è da ridere, no? Dice, cioè, per capire se parliamo nella lingua... Nell'Unione Europea non c'è un solo paese che ha come lingua l'inglese, perché l'unica se n'è andata, esatto. Infatti i francesi adesso stanno... Io proporrei il latino direttamente, a questo punto mettiamo il latino, almeno... No, perché il latino, guardate, senza scherzi, non ha possibilità di interpretazioni, è quello, quello che dice è quello, non c'è l'interpretazione, ah no, voleva dire... Però è curioso sapere, individuare il traduttore è importante. Sì, però, se è sicuro che sia il traduttore, il traduttore dice, ma io ho tradotto tutto, poi chi è che ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale, era andato a fare i pipì e si è dimenticato di citare la frasetta, ti dice. Allora, è chiaro che chi fa una cosa di questo genere l'ha organizzata, è come il colpo in banca, no? C'è una mente e poi ci sono gli esecutori. Te non è che puoi andare a prendere quello che ha preso i sordi dal cassetto? Che proprio quella frasetta non è quell'altra, è proprio quella. Tu devi andare a prendere il committente, cioè il capo della banda. Ora, io dico un'altra cosa, Antonio, per chiudere perché siamo già in ritardo. Allora, perché poi ci manca una cosa, ma ne parleremo domani o nei prossimi giorni. Ma quando vuoi vengo sempre con molto piacere. Ecco, appunto. Come possiamo noi fidarci di questa gente? Come possiamo fidarci di un governo che si aspetta, Antonio, di un governo che sapeva di questo errore? Perché questo errore va avanti da almeno un mese e sulle reti sociali è stato martellato e sono state mandate PEC al Presidente del Consiglio, sono state mandate lettere a tutti i politici più importanti. Nessuno ha speso una sillaba su questa, che è una delle cose più gravi che possano esistere, ingannare il popolo con una traduzione farlocca o addirittura che omette le parti fondamentali. Allora, io ho un milione di difetti. È come se prendi la Costituzione, cancelli l'articolo e dice no, no, non c'è, non c'è,